Benvenuti da FT Online a questo speciale sugli ETF. Voglio presentarvi oggi il nostro servizio sugli ETF e a questo proposito vi propongo una promozione speciale valida fino alla fine del mese di aprile con la quale potete avere al prezzo del servizio base il servizio intermedio di FTA che comprende anche il portafoglio ETF. Oltre allo stato di servizio andremo a guardare insieme anche l'analisi degli strumenti più interessanti in questo momento, quindi faremo anche un po' di analisi su quelli che sono le migliori opportunità di investimento proprio sul mercato degli ETF. In pratica se andate su FT Online nella sezione servizi vedrete che sono illustrati i servizi disponibili, nella base è possibile accedere a tutti i servizi presenti sul sito dal trading system, quindi l'analisi di tutti i singoli titoli sono circa un migliaio di strumenti per i quali vengono indicati i segnali del nostro trading system, delle newsletter giornaliere molto interessanti che in parte trovate replicate anche sulla nostra pagina Facebook quotidianamente, oltre che il notiziario in real time e nella parte intermedia invece c'è tutto quello che è compreso nella parte base più l'asset allocation settimanale azione ETF che appunto fa parte di questa promozione e volendo anche l'aggiornamento intraday sui future FTSE MIB ed Eurostox. Ma andiamo prima di tutto a guardare di come si compone il servizio sui ETF, questo è il nostro sito, se andiamo nella sezione servizi vedete asset allocation, qui trovate tutte le asset allocation di cui stavo parlando prima, ci sono i servizi sia sulla borsa italiana che sui ETF, in particolare ci interessa in questo momento quello sugli ETF che è composto da varie sezioni, innanzitutto tutte le settimane viene aggiornato questo portafoglio che è costituito da 21 strumenti selezionati tra quelli più interessanti del mercato che rappresentano l'azionario, l'obbligazionario e le materie prime e dopo aver presentato il portafoglio generale c'è anche la sua divisione appunto nei tre singoli asset class, quindi avremo un portafoglio relativo al azionario che vedete per adesso quest'anno ha avuto un rendimento dello 0,41%, ma tenete presente che tutti gli indici di borsa sono più o meno in ribasso del 15-20% fino a questo momento, una componente obbligazionaria del portafoglio che è in sostanziale parità rispetto ai valori di inizio anno e una componente di materie prime che sta guadagnando l'1% da inizio anno e questo nonostante il forte ribasso che c'è stato sul mercato del petrolio, su ciascuno dei tre portafogli è presente uno strumento short che ci permette di, nel caso ad esempio di quello sulle materie prime dette c'è l'ETF short sul crude oil che ci permette di tutelare il portafoglio in caso di movimenti negativi della borsa o delle materie prime come è successo recentemente e di preservare il capitale per poi permetterci di guadagnare sulle fasi di rialzo come è successo regolarmente negli ultimi anni, è presente una sezione che ci dà l'indicazione dell'allocazione mensile favorita, quindi questo può essere molto utile anche per i promotori e i gestori che tutti i mesi hanno un'indicazione di come posizionarsi sul mercato, questo è l'aggiornamento che è stato fatto all'inizio del mese d'aprile, vedete anche in questo caso la performance è interessante, sull'azionario all'inizio di c'era un caldo del 5% rispetto all'inizio dell'anno, ma con un benchmark che perdeva il 15% e sulle materie prime un 2,8% di ribasso rispetto ai suggerimenti con un 14,8% del mercato delle materie prime, le 3 asset class che qui vedete rappresentate in generale, materie prime, obbligazionario e azionario, sono poi esplorate in dettaglio nelle pagine successive con i riferimenti a ciascun elemento che compone il portafoglio, quindi avremo per l'azionario Nasdaq S&P 500, la componente dell'area aereo, i BRICS, il Giappone e la Cina e questa era l'allocazione suggerita ad inizio aprile, quindi 3 settimane fa circa. Ci sono poi delle tabelle relative all'analisi settimanale, in particolare ci sono 3 tabelle che fanno riferimento ai 100 ETF più liquidi, una è apprettamente operativa, la prima che guardiamo insieme, vedete ogni tanto viene anche pubblicata sulla nostra pagina Facebook, dove per ciascuno dei 100 strumenti più liquidi che viene analizzati, per i quali trovate ovviamente il codice di riferimento oltre al nome, vengono riportate alcune informazioni, in particolare il rating sintetico che viene affidato da FTA a ciascuno strumento, oltre al controvalore medio scambiato nell'ultima settimana in modo da avere un'idea della liquidità del mercato e una valutazione sia sulla tendenza attesa che sulla strategia in portafoglio. Ci sono anche 3 tabelle relative ai 100 strumenti più liquidi, poi ci sono 4 tabelle invece che fanno riferimento a tutto il mercato, vengono analizzati circa 1200 ETF ed ETC, non è probabilmente tutta la lista completa, perché ovviamente in alcuni casi per fare un'analisi statistica efficace necessaria a una banca dati, quindi una serie storica di una certa ampiezza, quindi strumenti di più recente quotazione non vengono inclusi nella lista, però diciamo che praticamente sono tutti gli strumenti del mercato, la prima tabella ci presenta i 100 migliori in termini assoluti di tutti quelli quotati sul mercato italiano, quindi troverete in questa tabella in ordine decrescente di valutazione di rating FTA, quelli che sono le migliori opportunità del momento, con indicazioni anche in questo caso su come intervenire in termini di trendi breve, trendi lungo termine e di operatività sia nel portafoglio, quindi in medio termine che di breve termine, con indicazioni anche di supporti e resistenze per ciascuno strumento, viene indicato anche la valutazione del rapporto rendimento rischio che è ovviamente molto importante nel caso si voglia andare a costruire un portafoglio. C'è poi un'ulteriore tabella molto interessante che è la tabella interattiva che mettiamo a disposizione visualizzabile tramite Excel, che comprende tutti gli strumenti che sono analizzati, vi dicevo sono circa 1200 e vedete in questa tabella è possibile fare delle simulazioni per avere un'idea di quelli che sono gli strumenti di più immediato interesse, vi ho parlato prima del rapporto rischio rendimento, ad esempio è possibile organizzare la tabella in ordine decrescente di rischio rendimento in modo da avere subito sott'occhio quelli che sono gli strumenti più interessanti. È importante che venga inclusa questa colonna relativa alla media del controvalore giornaliero scambiato, perché ovviamente ci dà un'idea di quella che è la liquidità dello strumento, è evidente che ci possono essere strumenti come questo con codice BBTR che ha una valutazione molto positiva, ma che scambia talmente poco che probabilmente non è da considerare come interessante in un'ottica di inserimento all'interno di un portafoglio, quindi parlando di ETF una delle difficoltà maggiori che ha il neofita quando approccia questo mercato è proprio quello dell'eccessiva disponibilità di strumenti, tra l'altro moltissimi che fanno riferimento agli stessi benchmark, quindi è molto difficile orientarci su quali scegliere, diciamo che grazie a questa tabella e le altre che abbiamo visto prima, ci sono molte informazioni che ci permettono di fare una scrematura del mercato e ottenere in modo efficace quelli che sono gli strumenti sui quali magari concentrare l'attenzione, fermo restando che poi come vi ho fatto vedere c'è già una lista preimpostata che è questa dei nostri 21 ETF scelti sui quali potete sempre fare affidamento, ma guardiamo da questa tabella che stavamo guardando insieme relativa al mercato nel suo complesso, che cosa si può estrarre? Se noi facciamo una valutazione in termini di rating, quindi di valutazione sintetica che dà FTA per ciascun strumento, vedete qui c'è una colonna rating FTA e una colonna rischio dove abbiamo ovviamente quelli che sono gli strumenti organizzati dal meno rischioso al più rischioso, quindi posso farla anche in questo caso da un sort, dal più grande al più piccolo e vedete ovviamente nella componente dei meno rischiosi sono quasi tutti ETF che hanno a che fare con il mercato obbligazionario. Da questa tabella noi possiamo estrarre una lista di quelli che sono effettivamente i titoli con le caratteristiche migliori, vedete l'abbiamo in questo caso organizzata in ordine decrescente di rating FTA, quindi se noi avessimo preso la nostra tabella precedente e l'avessimo organizzata in ordine decrescente di rating FTA, dal più grande al più piccolo e avessimo guardato quelli che sono gli strumenti che hanno una valutazione interessante, ma anche un volume di scambi significativo, troveremo ad esempio come primo strumento che ha una valutazione in termini di rating di 9, di rischio di 9 e 9 anche come rapporto rischio rendimento e che ha delle indicazioni molto rialzista e sovrappesare per quello che riguarda il trend lungo termine e la valutazione del portafoglio, abbiamo questo ETF con la sigla GGOV, andiamo a guardare di cosa si sta parlando, che è il primo nella nostra lista dei 12 ETF che abbiamo scelto di analizzare in quanto i più interessanti al momento, vedete questo ETF in particolare è la Mundi JP Morgan Global Bond che ha come benchmark il JP Morgan Government Bond Index Global, quindi un ETF che fa riferimento al mercato globale dei bond, andiamo a guardare il suo grafico, eccolo qui, vedete è uno strumento che nel corso degli ultimi mesi ha messo a segno un rialzo decisamente interessante per essere un ETF obbligazionale ovviamente che quindi come vi ho fatto vedere anche in termini di rischiosità è estremamente interessante, nella tabella che abbiamo visto prima ci sono anche alcune indicazioni importanti in termini di rischiosità, vedete una di queste è l'indice di Sharpe che sapete è direttamente collegato alla valutazione di rendimento rischio che si può dare al mercato, ma c'è anche il DINARISC che probabilmente qualcuno di voi ha già imparato a conoscere se segue la nostra pagina Facebook, ogni tanto ne parliamo, è la perdita massima teorica che lo strumento alla quale ci può sottoporre in una settimana, quindi una specie sostanzialmente di value at risk, una misura di value at risk che è stata sviluppata da FTA, vedete nel caso di questo ETF in particolare il DINARISC è del 3,25%, quindi vuole dire che ipoteticamente acquistando lo strumento a inizio di settimana la perdita massima alla quale si potrebbe andare incontro nel corso della settimana è del 3,25%, se lo confrontiamo ad esempio con il DINARISC dell'ETF che è riferito al petrolio short, quindi che si mette short sul petrolio che ha il DINARISC più alto, questo addirittura è di quasi il 27%, quindi capite bene che anche la rischiosità quando si parla di questi strumenti va conosciuta e bisogna saperla gestire per evitare di incorrere in brutte sorprese, comunque questo ETF che è stato decisamente interessante nell'ultimo periodo è sicuramente ancora da seguire con attenzione, però vedete ha una forte resistenza qui in corrispondenza del massimo del 9 di marzo a 56,38, quindi fino a che non andrà sopra questi livelli, è da valutare attentamente se inserirlo in un portafoglio o meno, infatti se vi ricordate quando siamo andati a guardare la nostra tabella riassuntiva ci diceva molto rialzista sulla pesare, ma ci diceva anche che il timing di breve termine è da diminuire proprio perché siamo in prossimità di una importante resistenza, resistenza che nella nostra tabella se avete visto è riportata a 56,40 che è il livello oltre il quale verrebbe inviato un nuovo segnale di forza. Il secondo strumento nella nostra tabella è l'ETF BIOT che fa riferimento al Solactive Pharma Breakthrough Value Index, che è un indice che rappresenta l'andamento dei farmaci orfani che sono quelli che entrano nella categoria dei farmaci che siamo per la cura delle malattie rare, che normalmente hanno dei problemi di finanziamento. Questo è un ETF che recentemente è andato molto bene, ha fatto un ottimo rialzo dai minimi di marzo, anche in questo caso però siamo in prossimità con una resistenza importante, quindi è da tenere sicuramente sotto osservazione, sopra 10,40 darebbe un nuovo segnale di forza molto interessante, siamo praticamente sui massimi storici, verrebbe in quel caso interrotto questo ampio trading range che caratterizza l'andamento del mercato ormai da due anni circa e quindi si aprirebbe sicuramente una nuova fase rialzista importante, fino a che siamo sotto 10,40 e 10,45 però bisogna mantenere ancora un atteggiamento prudente. Iniziamo adesso con tutta una serie di ETF sull'oro, questo è l'extracker physical gold che fa riferimento come benchmark alla un oncia troi di oro ed è quotato in dollari e vedete anche in questo caso il suo comportamento è abbastanza interessante, però nelle ultime due settimane c'è stata questa difficoltà nell'andare a superare la resistenza data dal massimo del 9 di marzo, volevo farvi notare come gli ETF abbiano un comportamento grafico estremamente interessante, sia questo massimo che il massimo del 9 di marzo è un bel esempio di shooting star, quindi una classica candela che si trova in prossimità di punti di svolto importanti, stessa cosa l'abbiamo vista anche qui nel caso del 24 febbraio e adesso è comparso invece un impiccato, quindi questa candela che è il reciproco rispetto allo shooting star che viene identificata come hanging man, quindi come impiccata appunto e ci dice che siamo in prossimità di una resistenza importante, questo non vuol dire che la resistenza non verrà superata, ma sicuramente ci induce la presenza di questo ostacolo a fare attenzione. Se andiamo a guardare la forza relativa tra questo ETF e il, guardiamola nei confronti del future sull'oro, perché così possiamo fare dopo il confronto con gli altri ETF che hanno come riferimento lo stesso mercato, quindi un attimo solo che recuperiamo il nostro future sull'oro, vedete tendenzialmente a parte questa reazione che c'è stata in ultime settimane, se andiamo a guardare questo ETF non ha avuto una performance particolarmente brillante nei confronti dell'oro, diciamo che si è mantenuto leggermente sottoperformante, bisognerebbe però andare a guardare per dare un giudizio effettivamente completo anche la rischiosità dello strumento, quindi bisognerebbe aprire il grafico dell'oro, cosa che possiamo magari fare adesso per farvi capire di cosa sto parlando, se andiamo a guardare il grafico dell'oro e valutiamo la sua, ad esempio il suo dinarisco e con la misura di rischio di cui abbiamo parlato prima, vediamo se lo riusciamo a recuperare rapidamente, il dinarisco del future sull'oro, quindi una misura di rischio in questo caso giornaliero è al 5,33, anzi no, scusate, ma anche questo è settimanale, 5,33%, invece nel caso dell'ETF di cui stavamo parlando è al 4,56%, quindi vedete è leggermente meno performante, ma è anche leggermente meno rischioso, quindi bisogna sempre fare queste valutazioni quando poi si va a scegliere se utilizzare uno strumento piuttosto che un altro. Siamo adesso al GBS, ossia all'ETF Gold Bullion Securities che fa come riferimento un decimo di oncia d'oro, quindi sostanzialmente il benchmark è lo stesso, anche se ovviamente la volatilità sarà diversa, quindi vediamo che ha un rialzo deciso anche in questo caso rispetto a quello che stavamo guardando prima ha avuto una capacità di rialzo recentemente più interessante, ha superato i massimi dai quali provenivamo, che erano quelli del febbraio di quest'anno, andiamo a guardare la forza relativa nei confronti dell'oro, quindi sempre nei confronti del future, in questo caso vedete mentre prima vedevamo la curva rossa che era la forza relativa, che era orientativamente decrescente, qui abbiamo invece che sostanzialmente questo ETF è capace di replicare in maniera quasi perfetta la performance del future sull'oro, quindi ovviamente questo vuol dire che se il future sale, questo avrà un andamento simile al rialzo e la stessa cosa ovviamente se il future invece scende. Passiamo adesso a questo wisdom tree gold che è relativo al Dow Jones UBS gold sub index in dollari sempre, che guardiamo subito la sua forza relativa nei confronti dell'oro future, vedete anche in questo caso negli ultimi mesi è stato sostanzialmente in grado di replicare l'andamento dell'oro, anzi se andiamo a guardare la retta di regressione lineare che caratterizza l'andamento della forza relativa negli ultimi mesi è leggermente crescente, quindi sostanzialmente una performance sicuramente interessante, questo è il grafico giornaliero, prima quello che stiamo guardando era il grafico settimanale, abbiamo visto appunto una bella capacità di crescita nelle ultime settimane, però notiamo anche la presenza nelle ultime due sedute di una figura potenzialmente ribassista, quindi questa candela del 24 d'aprile che incorpora quella del 23 invertendo nel disegno classico Berish and Galsing, quindi attenzione perché da questo strumento che come abbiamo visto replica molto bene l'andamento del mercato dell'oro in termini di future, arriva un segnale potenzialmente preoccupante per quello che è il destino del mercato di questo prezioso, oltre 18,50 un bel segnale di forza, molto interessante, ma finché stiamo sotto quei livelli c'è il rischio di vedere l'avvio di una correzione. Passiamo adesso allo strumento successivo che è lo short sul crude oil che ha come riferimento il Dow Jones WTI, quindi fa riferimento al petrolio americano, sicuramente sarà andato molto bene nel corso delle ultime settimane, però nelle ultime sedute, in particolare vedete a partire dal 22 d'aprile è andato incontro a una fase di ripiegamento e immagino sui massimi storici, visto che replica al contrario all'andamento del prezzo del greggio, vedete ha toccato i massimi storici, c'è il rischio a questo punto di una fase di ripiegamento, anche se devo dire che il rimbalzo che abbiamo visto dal minimo del 23 d'aprile è praticamente coincidente con i massimi dai quali venivamo, quindi c'è stata la rottura di questa importante resistenza in area 124, una lunga rialzo, poi la correzione, ma il ribasso non ha a dir la verità violato livelli particolarmente rilevanti, quindi è ancora possibile una nuova fase a rialzo, direi che è interessante da comprare questo strumento fino a che ci manteniamo di sopra di area 120. Abbiamo adesso due ETF relativi ai cambi, il primo fa riferimento al cambio Euro Yen, quindi è il codice EUJP, il suo DINALISC è molto basso, come è normale che sia nel caso del mercato Forex, è quello sottostante che è l'ETF dollaro Euro invece ha un DINALISC più alto di circa 4 volte, ma perché come vedete è un 3x, quindi è un ETF con leva a 3. Vi ricordo che gli ETF relativi alle valute, in particolare questi che stiamo osservando, sono il contrario rispetto ai cambi che siamo abituati a guardare, quindi questo è un Yen Euro, se andiamo a guardare per farvi fare un confronto, il grafico dell'Euro Yen, eccolo qua, vedete onde evitare di fare confusione, bisogna ricordarsi che l'ETF è il reciproco del cambio che siamo abituati a trattare normalmente, quindi ha semplicemente un andamento opposto, se invertissimo la scala dell'ETF ci ritroveremo con i due grafici che sono esattamente uguali o perlomeno sono estremamente simili. Possiamo a questo punto andare a studiare il nostro ETF e vediamo che anche in questo caso siamo in prossimità di un livello di resistenza importante, come del resto anche sul cambio Euro Yen siamo su un livello di supporto cruciale, vedete l'Euro Yen ha toccato sia a marzo che adesso con i minimi di venerdì, i minimi del 3 di settembre a 115,82 per quello che riguarda il cambio, con l'ETF siamo in prossimità del massimo di quota 46,37, la violazione di 116 ci sarebbe un segnale di forza di Yen molto significativo perché verrebbe a quel punto ribaltato probabilmente verso il basso questo trading range che ha un'ampiezza di circa 7 punti, quindi ci sarebbe la possibilità di tornare con il cambio a 109 circa come target e ovviamente la stessa cosa potrebbe accadere con il nostro ETF, quindi avremo una salita significativa delle quotazioni che potrebbe estendere fino a di sopra di 46,40, 46,50 potremmo arrivare fino a 49,49 e 50, quindi anche questo è uno strumento sicuramente da tenere sotto stretta l'osservazione, abbiamo detto che il successivo è il riferimento dell'euro dollaro, praticamente è come se fosse il dollar index come andamento, ma come dicevamo è un leva a 3, quindi vedete è un 3x, quindi andiamo a vedere il nostro EUS3 che troviamo qua in prossimità di una forte resistenza, ha provato venerdì la rottura dell'ostacolo, è arrivato fino in quest'area, poi è tornato indietro, sarà interessante vedere se ci sarà la capacità di salire oltre questi livelli o meno, andiamo a guardare rapidamente per fare un confronto il dollar index, che è uno strumento che in termini di quotazione probabilmente è sicuramente più seguito e quindi più facile da interpretare, vedete l'andamento del dollar index è sostanzialmente lo stesso del nostro ETF ed è il reciproco ovviamente dell'euro dollaro, nel caso del dollar index una rottura decisa di area 103, 104 sarebbe un segnale di forza perché darebbe la conferma della capacità di proseguire su questo trend al rialzo che parte dai minimi di febbraio 2018, certo che se il dollar index non dovesse salire sopra quella quota e il nostro ETF non dovesse sfondare area 97, potrebbe iniziare la correzione di tutto questo ampio movimento di rialzo, quindi potremmo andare incontro ad una fase di debolezza di dollaro abbastanza accentuata, una replica di quello che abbiamo già visto nel corso del mese di marzo, vedremo adesso quindi come si comporterà il cambio anche perché ovviamente dall'atteggiamento dei mercati nei confronti del dollaro sarà possibile capire anche quale sarà la situazione in termini di evoluzione della crisi del Covid. Passiamo adesso all'ETF che fa riferimento invece al mercato dei bond, quindi sui treasury bond americani a lunga scadenza con durata di studio superiore ai 10 anni, vedete anche questo ha avuto recentemente una bella impennata e anche qui però siamo in prossimità di una forte resistenza, quindi abbiamo visto nella seduta di venerdì il tentativo di superare la resistenza data dal massimo del 9 di marzo, resistenza che è rimasta intatta e se dovesse venire superata, quindi con questo ETF US 10 a di superare la 175, nuovo ulteriore bel segnale di forza, se dovessimo invece rimanere a di sotto di questi livelli potrebbe partire una correzione stesa e ovviamente in questo caso l'avvio di una fase di ripiegamento su questo ETF e in generale sul mercato dei bond USA potrebbe essere un segnale di forza o perlomeno di proseguimento del tentativo di rimbalzo da parte delle borse, quindi questo ETF in particolare da guardare anche per cercare di capire quella che sarà l'evoluzione del sentiment sul mercato azionario. C'è un altro ETF che fa riferimento al mercato dell'oro e ha però, a differenza di quelli che avevamo prima, una leva A3, quindi è uno strumento più speculativo rispetto a quelli che abbiamo visto prima, il suo andamento è esattamente lo stesso rispetto all'andamento degli ETF senza leva, vedete in questo caso la forza relativa è stata decisamente crescente durante l'ultimo periodo che ha visto la crescita dei prezzi, quindi è sicuramente uno strumento da tenere in considerazione nel caso il grafico dell'oro volesse continuare a salire, attenzione proprio perché come abbiamo visto anche per gli altri ETF che hanno come riferimento il mercato dell'oro siamo su una resistenza importante e quindi non è sicuramente questo il momento per andare a comprare, se dovesse esserci una chiusura di seduta sopra l'area 39,50,40 e allora in quel caso sì che avremo un nuovo segnale di forza e diventerebbe possibile scommettere su un'ulteriore fase di rialzo che potrebbe essere direi in questo caso almeno del 15-20%, quindi si potrebbe tranquillamente arrivare su area 50. adesso abbiamo due ETF che appartengono a categorie simili, per concludere la nostra carrellata, fanno riferimento al comparto dell'health care, quindi della salute, uno è con riferimento al mercato americano, uno col mercato europeo, guardiamo questo HLT che ha appunto come riferimento il mercato europeo, vedete è arrivato su una resistenza importante, nella seduta di venerdì c'è stata una frenata, andiamo a guardare in particolare il grafico a candele, rallentamento che per adesso non implica necessariamente una inversione di rotta, siamo anzi saliti anche al di sopra del 78,6%, quindi sapete che questo è un livello di rifiacciamento molto importante, giovedì i prezzi avevano disegnato questo hanging man, quindi un segnale di potenziale debolezza, però venerdì dopo aver testato i minimi della candela precedente hanno cercato una reazione, sono andate a chiudere con un leggero guadagno, direi che fino a che ci manteniamo di sopra del 809, la possibilità di tornare sul 118 che è il massimo di febbraio di quest'anno, resta del tutto plausibile, sotto i minimi di venerdì invece potrebbe esserci l'inizio di una fase di ripiegamento. Quindi spero di avervi dato una idea di quello che può essere il potenziale del mercato degli ETF, vi ricordo la promozione di cui stavamo parlando, parlando che è questa, che potete attivare tranquillamente scrivendo una mail a me a magagnoli.com oppure telefonando al nostro numero 0229062068, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro come sempre buon trading.